Salve a tutti, benvenuti a questa seconda lezione sul capitolo numero 2 dedicato alla lotta per le investiture. Nel corso della lezione precedente abbiamo visto lo sviluppo dell'impero nel corso del X e dell'XI secolo. Adesso andiamo a parlare della Chiesa, l'altro protagonista dello scontro per le investiture. La Chiesa nel corso del X e dell'XI secolo subì un grande rinnovamento, un rinnovamento di cui si sentiva fortemente il bisogno perché nel corso del tempo questa istituzione aveva perso la sua santità. Si era riempita di persone che ne facevano parte non certo per una chiamata, non certo per una fede profonda, ma solo e soltanto per motivi di lucro. Gli ottoni, con il loro desiderio di controllare il territorio appoggiandosi alla figura dei Vescovi, aveva fatto sì che all'interno della Chiesa si creasse una vera e propria aristocrazia. Un'aristocrazia che godeva di grandi privilegi e che viveva nel lusso, un lusso che si distanziava enormemente da quanto era predicato nel Vangelo. E poi il Papa, lo stesso Papa che prima era in mano alle famiglie romane e poi dopo il 962 passò nelle mani dell'imperatore. Beh, anche il Papa era una figura ormai svilita, era ridotta ad un fantoccio da usare per giochi di potere. Pensate che all'inizio dell'undicesimo secolo, nel 1032, si era verificato un fatto assolutamente assurdo. Era stato, fatto Papa, un bambino, un bambino di soli 12 anni. Quindi un vero e proprio scandalo. Oltre a questo, come vi dicevo prima, la Chiesa era piena di persone che c'erano entrate soltanto per motivi di lucro. È ovvio che gli imperatori, che dovevano scegliere persone a loro fedeli per assegnare la carica di Vescovo, Beh, insomma, ci guadagnavano anche e qualunque padre avesse desiderio, qualunque nobile padre avesse desiderio di sistemare magari il suo secondo genito, che non sapeva come meglio, appunto, accomodare. Beh, insomma, bastava che pagasse una cifra consistente all'imperatore per ottenere per lui un Vescovado e quindi una sistemazione definitiva per tutta la vita. Ora, queste cariche costavano caro e quindi anche i Vescovi, una volta che le avevano ottenute, cercavano in qualche modo di recuperare le somme versate, ad esempio concedendo a loro volta benefici a pagamento ai loro sottoposti, ai sacerdoti delle loro diocesi. Insomma, pagando si poteva ottenere tutto, si potevano ottenere assoluzioni, sacramenti, le cariche ecclesiastiche. Questo peccato, questa vendita delle cariche ecclesiastiche, questa concezione di cariche ecclesiastiche in cambio di denaro, era una piaga all'epoca molto diffusa nella Chiesa e ha un nome preciso. Si chiama infatti Simonia. Inoltre, benché allora i sacerdoti potessero tranquillamente sposarsi, infatti l'obbligo del celibato e della castità non riguardava i semplici sacerdoti, ma soltanto i Vescovi e i monaci, ecco, dicevo, nonostante questo, nel clero era piuttosto diffuso quello che viene chiamato il nicolaismo. Che cosa vuol dire nicolaismo? Vuol dire l'abitudine da parte dei sacerdoti a convivere con delle concubine, cioè con delle amanti. Ovviamente il nicolaismo non era diffuso soltanto tra i preti, ma come si può ben pensare anche tra i Vescovi, poiché, ribadisco, tutti i Vescovi erano stati scelti, o comunque la maggior parte dei Vescovi, erano stati scelti non per la loro virtù, né per la loro fede in Dio, ma semplicemente per motivi economici e per motivi politici. Quindi anch'essi si trovavano le loro brave amanti. Quindi ecco, una corruzione sia dal punto di vista, diciamo, economico che dal punto di vista proprio semplicemente morale, che generò un diffuso bisogno di rinnovamento e la richiesta di un ritorno ad una chiesa povera, che rispondesse al dettame evangelico. Questo venne sentito anche da parte dei fedeli, che specialmente nelle città cominciarono a fondare dei movimenti di contestazione contro il clero corrotto. Questi movimenti di contestazione furono talmente forti che spesso e volentieri i loro membri si rifiutarono addirittura di accettare i sacramenti se impartiti da preti che consideravano indegni. Quale atteggiamento ebbe la chiesa nei confronti di questi movimenti di rifiuto, di riforma, di ribellione? Beh, a volte la chiesa li accettò nel suo seno, come accadde per esempio con i francescani, ma talvolta li rifiutò, li condannò come eresie e perseguitò i partecipanti. Per esempio i dolciniani vennero completamente esterminati. Quindi un atteggiamento ambiguo che non dipendeva tanto dalle idee propugnate da questi movimenti, poiché tutti erano tesi a raggiungere una riforma della chiesa, a ottenere una maggiore povertà, una maggiore aderenza della chiesa al dettato evangelico, ma soprattutto dipendeva dal momento politico in cui la chiesa si trovava. Ma non furono certo i movimenti di riforma che venivano dal basso, dai fedeli a cambiare le cose all'interno dell'istituzione ecclesiastica. La riforma della chiesa fu propugnata e portata avanti nell'undicesimo secolo soprattutto dai monaci. I monasteri infatti avvertivano molto pesantemente gli effetti della corruzione del clero secolare, per vari motivi. Intanto spesso e volentieri i monasteri stessi si ritrovavano a dover accettare un abate, quindi i monaci si trovavano a dover obbedire ad un abate che in realtà non era un religioso, ma un semplice laico, a cui l'imperatore aveva assegnato per premiarlo di servizi resi un monastero con tutte le sue ricchezze. Quindi questi abati laici erano molto più attenti a sfruttare le ricchezze connesse con la loro carica piuttosto che a vegliare sulla moralità dei costumi dei monaci. E d'altra parte c'era anche un'altra cosa che gravava pesantemente sulla vita dei monaci ed erano le ingerenze dei principi e dei vescovi del circondario. Infatti l'imperatore era una figura spesso lontana e non era in grado di difendere i monasteri e i principi e i vescovi vicini al luogo dove si trovava il monastero cercavano sempre di intromettersi nella vita del monastero. Quindi dai monaci che facevano una vita veramente di castità, una vita di ascetismo e di preghiera partì questa spinta riformatrice che si rivolse soprattutto verso il clero secolare cercando di debellare sia la pratica della simonia sia la pratica del concubinato, del nicolaismo fino ad arrivare a obbligare anche il clero secolare al celibato. Quindi anche il matrimonio doveva essere vietato pure per i sacerdoti, pure per i semplici sacerdoti. Il centro propulsore di questa riforma che i monaci volevano diffondere in tutta la chiesa fu un'abbazia, l'abbazia benedettina di Cluny. Cluny era stata fondata all'inizio del X secolo in Borgogna dall'abbate Bernone con il sostegno del duca Guglielmo di Aquitania. I monaci di Cluny erano persone molto importanti, infatti provenivano dall'aristocrazia, dalle classi sociali più elevate e sebbene non condannassero il possesso di beni da parte della chiesa che consideravano anzi un segno di potenza e un segno di prestigio, tuttavia proponevano il ritorno allo spirito originario della regola benedettina. Che cosa diceva la regola benedettina? Diceva ora et labora. Ecco, i monaci di Cluny accentuavano l'aspetto della preghiera rispetto al discorso del lavoro manuale. Per loro la preghiera, la contemplazione, era la strada giusta per raggiungere la purezza morale e la salvezza. Quindi le chiese, le abbazie dei monaci cluniacensi furono sempre delle vere e proprie fabbriche di preghiera. Ne vediamo qui un'immagine. Ecco i monaci benedettini di Cluny, con il loro tipico abito nero, erano infatti conosciuti come i monaci neri da parte del popolo, che certo non si metteva ad imparare il termine cluniacense, ma li chiamava semplicemente monaci neri. Il loro modo di pregare era, come dicevo prima, quasi una catena di montaggio. C'erano dei veri e propri turni di preghiera, per cui in chiesa c'erano sempre un certo numero di monaci che pregava e la preghiera continuava a salire dall'abbazia verso il cielo. Quindi erano molto apprezzati per la loro santità e anche per la loro utilità. All'epoca infatti si credeva fortemente nel valore della preghiera e nel potere della preghiera. Avere un monastero che pregasse costantemente per loro faceva molto piacere ai signori che quindi appoggiavano e sostenevano e facevano arricchire questi monasteri, i monasteri dei cluniacensi, come dicevo. I cluniacensi fecero una scelta. Piano piano, quando diventarono più potenti, cominciarono a allontanarsi, a liberarsi dal gioco del vescovo o del principe a loro vicini, si resero indipendenti dal loro potere e decisero di obbedire ad un solo vescovo, il più importante di tutti, cioè di obbedire al Papa e non appunto al vescovo della diocesi in cui sorgeva il monastero. I monasteri di Cluny, come dicevo, ebbero un grande successo, erano molto venerati, erano molto ammirati e quindi alla fine, due secoli dopo la sua fondazione, il monastero di Cluny si trovò a capo di una rete di circa 2000 monasteri benedettini in tutta Europa. Qui nella cartina vedete la diffusione dell'ordine cluniacensi, sono le sedi segnate con un pallino o un quadratino rosso, ecco qua la sede centrale e poi tutti gli altri monasteri. In giallo sono zone ad alta densità monastica cluniacensi, quindi vedete il potere e la diffusione dei monaci neri dell'ordine cluniacensi. L'ultima cosa importante che dovete ricordare dei cluniacensi è che dalle loro fila uscirono alcuni papi importantissimi, papi riformatori come per esempio Alessandro II e Gregorio VII, di cui parleremo meglio tra breve, che appunto venendo da Cluny poterono contare sull'appoggio e il sostegno dei monasteri cluniacensi diffusi in tutta Europa e che furono papi riformatori, papi che decisero di riformare profondamente l'assetto della chiesa, di ritornare ad una chiesa pura, ad una chiesa santa e soprattutto una chiesa libera dal potere dei laici. Sempre nell'undicesimo secolo poi fecero la loro comparsa nuovi ordini monacali che condividevano con i cluniacensi la dura critica non solo verso la corruzione ecclesiastica ma anche verso lo stile di vita di questa aristocrazia feudale che era basato sulla razzia, sull'uso della forza militare. All'inizio dell'undicesimo secolo, nel 1012, nacque l'ordine dei camaldolesi che prendono il nome dalla località di Camaldoli nei pressi di Arezzo dove venne fondato dal Romualdo di Ravenna il primo monastero. Nella regola monastica dei camaldolesi si sottolinea soprattutto l'assistenza ai viandanti e ai pellegrini. Un altro ordine che sorge alla fine dell'undicesimo secolo nel 1084 è quello dei certosini. I certosini erano così chiamati per chi avevano sede nell'eremo di la Chartreuse, cioè la Certosa, che si trova nella Francia sud-occidentale. Ecco, la loro regola si centrava soprattutto sul silenzio, un rigido silenzio e lunghe ore di preghiera da fare, da passare soli in solitudine nella propria scella. Infine, proprio alla fine dell'undicesimo secolo nel 1098, nella città di Citeaux, in Borgogna, venne fondato l'ordine dei Cistercensi. Infatti, Citeaux in latino si chiamava Cistercium, per cui ecco un altro ordine molto importante, appunto quello dei Cistercensi, che il popolo chiamava comunemente monaci bianchi per distinguerlo dai Cluniacensi, proprio perché in questo caso i Cistercensi avevano scelto di indossare un saio bianco. L'esponente più celebre di questo ordine fu San Bernardo di Clairvaux, Bernardo di Chiaravalle, che ritroveremo anche nella Divina Commedia come ultima guida di Dante nel Paradiso. I Cistercensi polemizzavano contro i Cluniacensi perché predicavano il ritorno a un ideale di povertà radicale, di eremitismo e di ascetismo, mentre i Cluniacensi, come ho detto prima, non disdegnavano la ricchezza e il fasto, le loro chiese erano piene di tesori. Invece i Cistercensi riprendono la regola originaria di San Benedetto, ora et labora, ma soprattutto pongono l'accento sull'importanza del lavoro manuale, della parte labora, del lavoro appunto. A partire dall'undicesimo secolo infatti i Cistercensi dettero un grandissimo contributo a quella colossale opera di bonifica e di dissodamento di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente. In particolare da ricordare dei Cistercensi sono le grange, la costruzione di questi granai, grangia significa appunto granai, che erano delle vere e proprie aziende agricole in realtà, guidate e gestite dai conversi. Conversi sono dei frati laici, cioè appunto delle persone che non hanno preso i voti ma che vestono l'abito monacale e che vivono nel monastero, lavorano per i monaci. Queste grange si trovavano spesso a grande distanza dall'abbazia e quindi ecco dovevano essere gestite non dai monaci propriamente detti ma dai loro conversi. Ecco abbiamo quindi concluso il nostro panorama dei nuovi ordini monastici creati sintorno all'undicesimo secolo, ordini monacali che come abbiamo detto avranno un ruolo essenziale nella riforma della Chiesa e nella sua trasformazione. Con questo noi abbiamo concluso, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione.